Pyramid Aesir, activated. Ma allora perché registrano brevetti militari? Perché il sito S vuole infilarsi in tutti i sistemi di controllo. Ed ecco perché Junior è qui. Abbiamo una missione per lui. No, non è vero. Non sta a te decidere. Pensi di poter entrare dall'ingresso principale di Tidys e rubare i suoi segreti? Cazzo, persino il governo compra da loro i suoi lucchetti biometrici. Sono questi i sistemi di sicurezza che ci troveremo davanti. Il lettore di impronta è facile, basta trovare una mano. Scommetto che non avrai problemi. Ma che piano è? Vuoi tagliare la mano a qualcuno? Beh, funziona. Non qui. Hanno sensori del battito e scanner a infrarossi per la circolazione. Niente sangue, niente sblocco, non passeranno. Va bene, allora, beh, rappiamo uno vivo e lo usiamo per entrare dentro. No, il sensore del battito si accorgerà se è nervoso. Ah, ok. Allora noi, beh, gli iniettiamo del sedativo per rallentargli il battito e poi... Ma che cazzo? Abbiamo già un piano che funziona. Non con lui! Junior, aspetta. E ora ascoltami. Non puoi venire qui a fare il padrone, ok? Questo è il mio garage. È il mio robot. Vuole trasformarlo in una bomba. Una bomba elettromagnetica, un cavallo di troia. Colpiamo le macchine giuste, friggiamo i database. E le porte si resetano al codice di fabbrica. Sarà una passeggiata. Quindi ci basta il codice di fabbrica? Funziona, bello. Una sera. Una sola sera insieme nel deserto e siete già migliori amici. Sai che c'è? Va bene, Marcus, prendi le sue parti, ok? Ma non mettermi in mezzo. Vedi di crescere un po'. Che cazzo hai detto? Ehi, 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 ehi! Calma! Ehi, calma, Ray, calmati! Come lo portiamo dentro? Prima di tutto, dobbiamo togliere tutte ste stron... Quest'utilissima propaganda. No, no, fermi, la vernice non si tocca! Quando uno di questi si rompe, Tidys ne prende un altro da un deposito. Così lo faremo entrare. Ottimo! È perfetto! Bravo, French! Va bene, va bene. Sono pronto quando vuoi. Sì. Junior è caricato sul retro? Sì, è dentro! Quindi useremo un EMP al centro riparazioni? Non ci credo che è così facile entrare nella società di sicurezza più nota al mondo. Beh, hai rubato un robot da 36.000 dollari. Quindi vuoi dire che sono il primo finanziatore di questo piano? No, sto dicendo che sei un taccheggiatore. Un brigante! 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 Mi piace! Il brigante mascherato si aggira per le strade di notte per appropriarsi delle ricchezze e dei nobili. Non c'è furto al mondo che il brigante mascherato non possa compiere. Il brigante mascherato con il suo imbranato ma adorabile amico. L'oscuro straniero. Sai una cosa? Altro che un brigante. Sei più lo stronzo mascherato. Bene, adesso metterò assieme una simpatica bomba EMP. Non dovrei avere problemi a trovare i pezzi giusti qui. Oh, i robot che potremmo costruire qui! Ah, magari un'altra volta. Ok. Grazie. 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 È lì pronto al punto di consegna. Puoi aprirmi la porta? Ci sono. Grazie. 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 tu lo show ora? No, direi che andrà in scena Marcus, ma farò tutto il possibile per assicurarmi che possa arrivarci. Ci vediamo lì, Ray. Pago il prezzo, trovo più l'orina, non le vale perché mancano più. Vuoi provare ad abbattere Golia? Più gli esponiamo alla luce del sole, più forconi e torce arriveranno in risposta. Vuoi paragonare i tuoi follower a un gruppo di paesani arrabbiati? Certo che no, ma... La gente è furiosa e fa bene, si riprenderà ciò che è suo! Ehi, però vedi di dirigerla contro il mostro giusto, ok? Comunque... Tocca a te entrare nella Tidys e giocare coi robot. Merda, è questo quando è stato deciso? Siamo giocata a carta, sasso e dinamite. Sì, ma senza di me però. No, ma se pareggi, vinci. Vrenci ha lanciato carta e io dinamite. Dinamite? È una regola locale. Tecnicamente si annullano vicenda. Sì, ok, ok, mi sembra giusto. E lui l'ho mandato in un deposito della Tidys. Alla parte più delicata, leggere il manuale di istruzioni. Poi tu arrivi alla porta, gli dici il numero del modello e ti fai dare il codice di fabbrica. Io sarò vicino con le mappe e gli schemi elettrici. Bella, andiamo. Sì, va bene. Buona caccia. Buona caccia. Buona caccia. Bene, tocca a me. Buona caccia. Junior c'è, devo solo capire dove lo sto portando Deve andare all'app della sicurezza lì accanto Sembra che sia schermato da una gabbia di Faraday Quindi prima di usare l'EMP Controlla JR e infilaglielo dentro Sì, suonava un po' male Cerca la scatola elettrica Deve essercene una lì No, quello no Sì, suonava un po' male Sì, suonava un po' male Tenetemi forte! Un po' male È divertente, ma non dimenticare perché ti trovi lì, Marcos Non l'ho dimenticato, ma me la godo un po' Continua ancora verso la zona di carico La stanza della sicurezza è lì accanto Non l'ho dimenticare Non l'ho dimenticare Non l'ho dimenticare Non l'ho dimenticare E' l'imparte Sì, suonava un po' male Oh mio Dio! Geronimo! Geronimo! Bene, Junior è pronto. Dite tutti buonanotte a Junior. Le MP ha fatto la magia, Ray. Già, sono piacevolmente sorpreso. Avevi dubbi? Ho sempre dei dubbi, ma sono abili a bleffare, amico. Non per natura, però. Perché arrivavo spesso in ufficio con i postumi. French ha il codice della porta della Tides. 4545. Grazie. È tutto in ordine. Oh, cavolo, me la sono fatta sotto. Alla Tides, la sicurezza è garantita e la tecnica... Ok, ora vado alla stanza dei server. Adesso dovresti poter raggiungere il server del database, se non contiamo allarmi, laser e tizi armati. Oh, così facile, eh? Grazie. Attenzione, segnalato un bersaglio precedentemente identificato alle vostre coordinate. Colpito! 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 Ah, è ferito. Cerco un riparo! RESTO BASSO! 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 Bene, sono in un bunker atomico alias garage per auto. Non hai altro sui loro laboratori? Solo che c'è una bella porta blindata che vi separa. Non ho idea di cosa ci sia là dietro. Ma lo scoprirò. Mentre gli attuali robot Tyvis hanno capacità offensive limitate, il piano per i prossimi anni è di adattarli perché svolgano un ruolo molto più attivo nelle zone di guerra. Stiamo già testando la resistenza ai polpi all'interno di un contesto di repressione urbana. Stiamo anche negoziando con la Galilei per fornirgli robot da utilizzare nel loro programma spaziale. Uno degli obiettivi a lungo termine è dotare i robot Tydis di armature capaci di resistere a ogni tipo di proiettile in combattimento. Nelle situazioni di sicurezza interna, i nuovi modelli resisteranno a colpi di pistola di medio calibro, bottiglie Molotov e agli altri tipi di arma utilizzati nella guerriglia urbana. Nei prossimi due anni la Tydis inizierà a testare le capacità in attacco e in difesa dei nostri robot, tanto in contesto domestico quanto militare. Grazie alla precisione aumentata e ai riflessi superiori, i nostri robot saranno una valida alternativa ai soldati e al personale di sicurezza. Ragazzi, ho registrato le cose più assurde sui robot qua sotto, ecco, non ci crederete mai. Qualcosa di utile per il video? Tydis e Bloom intendono impiantare il CTOS in robot armati per usarli contro i cittadini. Allora, come ti suona? Molto familiare. Che significa? Inserire i dati in macchine da guerra era il sogno bagnato di certa gente alla Bloom quando iniziamo a progettare il CTOS. Io misi il vetto sulla faccenda, ma sapevo che non era finita. Per questo sei così coinvolto nella faccenda? Sì, sì, avevo dei sospetti. E ora abbiamo le prove per schiacciarli. Vieni via. Non ho finito qui. C'è altro. Mi faccio vivo. Sì, sì, sì. Sistema online. Arma attivata. Ragazzi! Ragazzi, non so che... Cos'hai trovato? Ragazzi, non so come... Perché tocca sempre a lui divertirsi? Sistema online. Bene, credo di aver sistemato questo bestione. Ora devo solo superare le porte di sicurezza. Qualche idea? Ascolta, se provi a far saltare il sistema antincendio, le porte dovrebbero aprirsi per forza. Posso farcela. Che... O... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ha funzionato. Vado dai prototipi ora. Abbiamo un problema. Pare che la porta dei server di backup sia ancora chiusa. Ci penso io. Premio ammazzati i prototipi e io sistemo la porta. Conto su di te, amico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccoci. La porta è ora aperta. Deve esserci un ascensore. Così raggiungerai la stanza dei server di backup a livello meno tre. E a chi servono gli ascensori? Ricordati di spaccare tutto, però. Grazie a tutti. 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 Ehi, che succede lì dentro? Non lo so, ma non mi pagano abbastanza. Auguri. Ehi, Marcus. Guarda sta roba della Tidys. È il porno degli ingegneri. Cioè, apprendimento, nanotecnologie, cannone rotaia, cannone rotaia. Ah, sapevo che mi sarebbe piaciuto. È un regalo? Sì. Sì. Cazzo, Ray, sei tipo un Babbo Natale viscido e volgare. Ho, 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 buon Natale del cazzo. Ehi, siete pronti? Sitara sta per pubblicare il video. Tra i titani della Silicon Valley, la Tidys passa inosservata. Non si fanno troppo pubblicità. Lavorano dietro le vinte, lontano dall'arimante. Hai il Dedsec? Sa cose di cui dovreste preoccuparvi. La Tidys usa i soldi dei contribuenti per finanziare i macchinari militari. Oggi, un prototipo da combattimento ha devastato la loro sete, dimostrando quanto può essere distruttivo. Nei prossimi dieci anni, quei robot potrebbero essere utilizzati ovunque. Se non scendete in piazza a protestare adesso, costruiranno un esercito per rendervi docili. La Tidys e la Bloom verranno al sito a essa accesso ai loro robot. La Bloom ha venduto informazioni riservate che verranno usate contro di voi se il progetto continuerà. Noi non resteremo fermi a guardare. Il Dedsec vi ha detto la verità. Ora tocca a voi. Grazie.